Ben ritornati in studio come anticipato nella prima parte del nostro telegiornale, qui con noi Franco Galietta perché ci sono importanti novità in casa a Gelbis, c'è la fumata bianca sul nuovo presidente ma io non aggiungo null'altro, lascio subito la parola a Franco Galietta. Franco è stata una lunga notte, iniziamo da questo? Sì, è stata una lunga notte e una felice notte, innanzitutto saluto tutti i nostri telespettatori e penso che quando andrò via saranno tutti più contenti, maggiormente i giovani tifosi vallesi che io chiamo tutti i miei piccoli figli rosso-blu. Quando li incontro, li abbraccio, stanno soffrendo, probabilmente, sicuramente dopo che sentiranno quello che ho da dire saranno un po' più contenti e poi il resto lo stabiliremo domani sera quando ci sarà la nuova assemblea della Gelbis, augurandoci che non sia una farsa come quella dell'altra volta. Bene, tanto detto, io in questo momento qui cari amici sono, vedete, molto sportivo perché sono felice, non ho dormito tutta la nottata perché abbiamo dovuto fare, ci sono stato anch'io in questa fautore perché hanno, chi deve subentrare, chi vuole subentrare, io sono lusingato del fatto che ha detto io, come mio uomo di fiducia, è Franco Garietta, quindi io non posso che innanzitutto ringraziare, a questo punto lo dico anche perché qui c'è tutto scritto, Carmelo Infante del supermercato MD. Ripetiamolo allora, quindi lui Infante, supermercato MD, lui è pronto, tanto che è pronto che noi lavoriamo con le carte in mano. Questo che io sto per leggervi adesso, poi se eventualmente quando inizio Marco è alla regia, ringraziamo il nostro bravo Marco e poi scusami ho dimenticato di ringraziare il nostro patrimonio dell'UNESCO che è qui Carmela, che è sempre ben propensa, quando io inizio cortesamente Marco va a vedere che questo è stato regolarmente protocollato al Comune perché questo che io vi leggo è all'illustrissimo signor sindaco di Vallo della Lucania, quindi non è assolutamente a sette tv, non è assolutamente agli altri emittenti e non è assolutamente a fantomatiche squadre di fusione o di vendita che ormai si sono short come la neve al sole. Ecco, ci siamo visti l'ultima volta con la proposta di fusione del Valdiano, è venuta meno? Sì, è venuta meno, come è giusto che era venuta meno perché probabilmente non sanno che nel Vallo del Viano Franco Galetta c'è, io sono stato nel Vallo del Viano, ho saputo tante cose molto molto particolari, strane, queste qui non le voglio parlare adesso, ne parleremo domani sera, adesso invece io ho voglia subito di far capire ai vallesi che la Gelbison, non come è stato detto, non ci sono altri imprenditori disposti a prendere la Gelbison, adesso il fardello diventa più pesante per qualcuno, perché l'imprenditore c'è, c'è l'imprenditore con una serie di persone ben disposte a fare calcio, ma ve lo dico già adesso, ve lo dicevo dopo, dove è scritto, a parametro zero, questo sia ben chiaro subito. Diciamo che il nuovo imprenditore è pronto a subentrare, però vuole una società senza debiti, così come l'ha trovata... Ascoltami Carmelo, io faccio solo un passaggio, io ho sentito dire, mi è stato riferito, che il signor Presidente, che non ho mai offeso e tantomeno mi permetterò di offendere perché nelle sue funzioni è una persona per bene nel lavoro, ha detto, ma le pare proprio che poi i vallessi si vogliono divertire con i miei soldi. Bene, io al signor Presidente gli mando a dire, ma Presidente, ma lei pensa proprio che chi deve subentrare si debba divertire pagando i suoi debiti? Allora, invertiamo la cosa, come le sembrerebbe a lei? Quindi già questa frase qui è antipatica, quindi prima di dire le cose, io Presidente, io le do un consiglio, cerchi di capire pure poi la cosa gli verrà ribattuto su quello che lei dice. Allora, andiamo avanti subito e non perdiamo più tempo. Quando è disposto Marco, viene un attimo Marco? Ecco. Perché prima di iniziare dobbiamo dire che l'ufficialità di quello che io sto dicendo. Ecco, vogliamo inquadrare le carte, giusto? Sì. Eccola qua, c'è la telecamera Franco, perdonami, no, la telecamera con la quale facciamo la rassegna stampa. A me interessa che prendi il protocollo. Ecco qua. Allora, città di Vallo della Lucania, 7 giugno, protocollo numero 6.220, 7 giugno al sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia. Ecco qua. Perfetto, quindi tutto ufficiale. E poi le firme dell'imprenditore. Firme, regolarmente, tutto regolare. Ecco la qua, la firma di Carmelo Infante. Chi volesse prendere copia può andare anche al municipio regolarmente a chiedere copia degli atti, tanto copia degli atti amministrativi, anche se non sono atti amministrativi. Si possono chiedere. Oggetto, manifestazione di interesse per la AS di Gelbison Vallo della Lucania. Il sottoscritto Carmelo Infante, il quale mi ha nominato sua persona di fiducia, quindi io qui non sono più come giornalista adesso, sono come persona di fiducia di Carmelo Infante. Nato a Vallo della Lucania nel 17-7-83 e residente in Castelnuovo Cilento alla via Grimmita 19, quale delegato di un gruppo di imprenditori e con espressa riserva di indicare il legale rappresentante della futura compagine associativa, venuto a conoscenza del delicato momento di conclamata difficoltà dell'AS di Gelbison ed in particolare della concreta possibilità di vedere svanire improvvisamente la storia della società, del marchio e della squadra maggiormente rappresentativi dell'intero territorio occidentano. Mi fermo per fare un inciso. Uno che ha avuto poco e niente a che fare con la Gelbison, dimostra di amare i colori rosso-blu perché lui esercita le sue attività anche a Vallo della Lucania e non posso che dire grazie Carmelo Infante, comunque vado a finire la situazione, già questo il tuo gesto è da apprezzare in modo veramente superlativo. Preso atto che nell'asciagulata ipotesi di non iscrizione al campionato di Serie D della stagione Ventura 2019-2020, la STG Gelbison perderebbe di fatto tutto l'indotto di tifosi, di rappresentatività del Cilento e di promozione del territorio a livello nazionale, oltre che dei numerosi giovani atleti che con la gloriosa maglia rosso-blu sono cresciuti o stanno crescendo. Ritenuto che la perdita, questo virgolettato della Gelbison, rappresenterebbe un durissimo colpo anche all'identità stessa della città di Vallo del Lucana, del Cilento e dei Cilentani, cosa che qualcuno pare che interessi poco, che possa anche finire il calcio a Vallo della Lucania. Quindi ogni tanto un inciso ce l'ha già fatto, se no non so franco carietta. Propone di scrivere la SD Vallo della Lucania al campionato di Serie D per la prossima stagione 2019-2020 con un campo di gara presso lo stadio comunale Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Grandissimo! Compeando un notaio in Giovanni Morra, che Dio gli abbia riservato un posto dove meritava, di scrivere la compagine Juniores al campionato nazionale di categoria, quindi iscrizione prima squadra, Juniores alla competente campionato nazionale di categoria, di scrivere ai campionati regionali e provinciali organizzati dal VGC le diverse compagini del settore giovanile e scolastico. Vedete, parte bene perché stai cominciando a parlare di quello che ho sempre detto, il settore giovanile che è la cosa più importante della Jebison, è alla base trainante di un progetto che possa durare nel tempo e qui ecco perché io sto sposando bene e sono soddisfatto di quello che Carmelo Infanti ritiene di voler fare con il mio modesto aiuto. Per la migliore realizzazione del progetto potranno far parte della compagine societaria, i dirigenti e soci dimensionari che manifesterebbero tale intenzione. Pare evidente che non chiude la strada a nessuno, anzi intende dare continuità al calcio, anche con i dirigenti perché di questa dirigenza, Franco Galetta e gli altri, noi del direttivo non ci siamo assolutamente mai lamentati. Anzi, il progetto associativo, pur avendo un carattere dichiaramente comprensoriale, avrà sede principale presso lo stadio comunale Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Le varie attività saranno improntate al rigoroso rispetto di criteri di economia oculata e prudente al fine di raggiungere alla fine della stagione il pareggio di bilancio. Io penso che se ci fosse stata una politica un poco più oculata, probabilmente il pareggio di bilancio ci si poteva arrivare anche quest'anno, sono fatti che a me comunque non interessano. E di rendere proseguibile l'attività associativa per gli anni futuri. Voglio dire, se io quando lavoravo alle poste, da direttore prendevo, non ho pensato di dirlo, 1.500 euro al mese, e pensavo di spenderne 3.000, 1.500 per 12, io penso che a fine anno sapevo che andavo sotto di 18.000 euro. E poi che i numeri ci so fare. Forse non parlo bene l'italiano, ma ci so fare. E quindi non potevo permettermi di fare i conti, il bilancio si fa prima, non si fa alla fine dell'anno, quando purtroppo poi è negativo e non puoi più riparare. Nell'ottica di legare il marchio Gelbison al territorio, la nuova compagine si propone di formare e valorizzare gli attenti e i tecnici presenti nel comprensorio cilento. Ecco qua, le prime risorse vengono qui, rientreranno tutte le risorse che possono rientrare, di Vallo, di Angellara, di Pattano, di Pellare, prima loro, a costo anche di rischiare di più. Tad, se non era Purnardò, eravamo retrocessi anche quest'anno. Però manderemmo l'eccellenza e la manteniamo con i giovani. Ma non è detto. A tal proposito, un particolare riguardo verrà riservato a settore scolastico e giovanile, che dovrà svolgere la duplice funzione di promozione dei giovani atleti e di vivaio della prima squadra, anche mediante la creazione di un campus per la formazione sportiva, educativa, culturale e didattica dei giovani atleti, con capacità ricettiva per l'ospedità e l'alloggio, anche notturno. Andiamo un poco più adesso alla sostanza. Questa è sostanza sportiva. Ma andiamo là. La presente proposta, sottolineata, marcata bene, è tassativamente subordinata alle medesime condizioni indicate dalla Assemblea dell'Associazione il 3 luglio 2018. Lo scorso anno. Lo scorso anno. Qualcuno deve ricordarlo bene. Quando si batteva la mano sul tavolino. Costo zero, parametro zero, costo zero, parametro zero. Ancora mi rimbomba nelle orecchie. Alle medesime condizioni indicate dall'Assemblea dell'Associazione il 3 luglio relativa alla successione alla presidenza mainente della presidenza dei politici e più precisamente nei seguenti termini. 1. Il presidente di missionario, avvocato Ottavio dei Politi, si impegni incondizionatamente a pagare, avendo svolto le funzioni di presidente della predetta associazione, tutti i debiti contratti alla data di oggi, garantendo in particolare l'estinzione di tutte le obbligazioni, sia morali che economiche, assunte nei confronti di terzi, ivi compresi le banche o le finanziarie, nonché i calciatori, allenatori, lo staff tecnico ed altro, e comunque nei confronti di tutti coloro che possono chiedere pagamento di compensi, rimborsi spese e qualsiasi altro titolo di pagamento di denaro per le prestazioni, i servizi e i lavori resi all'Associazione in parola. 2. Abbiamo finito. Il presidente di missionario consegna alla nuova dirigenza le manleve, sa bene cosa sono, la cosa più importante, le quietanze e le liberatorie, che perché qui non si prende il gatto nel sacco, a favore della S di Gelbison Valle Lucane, di tutti i calciatori, allenatori, staff tecnico, dirigenti tecnici, massaggiatori e custodi o magazzinieri, il cui mancato pagamento possa comportare vertenze con la FG nei confronti dell'SG Vallo della Lucania anche attraverso l'invenzione di penalità in classifica e questo cadrebbe sulla nuova società disposta ad entrare. Bene, con osservanza, Vallo della Lucania, 6 giugno 2019, Carmelo Invande, con tanto di firma regolarmente opposta e protocollata al Comune. Vi dico solo due cose e finisco. Oggi sono più contento. Oggi sono sportivo al massimo. Ecco perché sono venuto così. Perché so che quando mi sentiranno questi giovani, ma anche le persone anziane che mi hanno fermato, mi fermano ogni giorno. Ma che succederà? Avremo la Gelbison. Sono contento perché adesso non c'è l'alibi per qualcuno che non ci sia chi vuole continuare il calcio a vallo. E allora a questo punto qua, adesso deve giocare a carte scoperte. Perché prima diceva, ma se pure non pago i debiti, probabilmente non c'è neanche una società disposta a continuare. Quindi si sentiva moralmente forse meno pesante il fardello. Adesso il fardello se lo sentirà moralmente più pesante. Ora Franco... Perché adesso è ora di fare i fatti e non le chiacchiere. Poi, a me non riguarda, non ho mai offeso nessuno. Però questo lo devo dire, lo dirò anche domani sera. Io non ho bisogno di venire qui mezz'ora da Carmela per farmi pubblicità. Io faccio 27 anni programmi sportivi. Mi chiamano Pippo Baudo, mi sfregoliano la gente. Ho fatto 700 trasmissioni. Ma lo dico non per vantarmi, ma per dire a qualcuno che si è permesso di scrivere su Facebook che mi deve cadere la lingua. ma guarda caso, io parlo sempre di più. Perché buon signore mi vuole bene, perché non voglio il male della gente. E chi si è permesso di dire ancora cosa più grave, più grave, non faccio il nome perché nome non ne faccio, si vergognasse che Vallo della Lucania non merita nulla e meriterebbe di essere bombardata. Questa è una cosa gravissima che i vallesi devono sapere. Si vergogni chi l'ha detto. Perché noi possiamo parlare di calcio. Io al Presidente sto invitando di fare le cose che gli toccano fare. Io non ho nulla di personale contro il Presidente. Non l'ho mai offeso. Sono stato offeso io. Però adesso, Presidente, e chiudo, lei ha le mani un poco bloccate. Quindi se lei non vuole essere ricordata, e chiudo per l'ennesima volta, come colui che veramente lo fa finire il calcio a Vallo della Lucania, perché non finirebbe se lei mantiene fede a quello che ha preteso l'anno scorso, la Gelbison continuerà. La Gelbison è dei vallesi, la Gelbison è di tutti i vallesi, la Gelbison, lo ripeto, è della Madonna delle Grazie, è di San Pantaleo, è di San Nicola, consentitemi, è anche di San Francesco il mio santo. Quindi vogliamo che continui il calcio a Vallo della Lucania. Lei, non ho dubbi, perché io penso che non ho dubbi, lei è un uomo d'onore, so che è un uomo d'onore. Allora, mantenga fede, si consiglia anche con il suo direttivo, se si vuole consigliare, chi vuole compartecipare, non sono fatti i nostri, paghi e noi riporteremo la Gelbison, rifaremo il camminato di serie D, e Franco Galietta sarà a disposizione di questa società, onorato di essere la persona di fiducia di Carmelo Infante, perché vuol dire che sa che sono una persona seria, io se sostituisco una persona è come se fossi me stesso, bene, tutta la mano che posso dare, ma a prescindere che al di sopra di questo viene prima la nostra grande compagnia, che è Sette TV, che è Giorgio Scelza, che è il patrimonio dell'unisco Carmela, domani sera ci saremo tutti, nell'assemblea, nessuno verrà cacciato fuori, questo sia chiaro, abbiamo accettato anche questo, democraticamente, nessuno verrà cacciato fuori, perché domani sera è commissariata, parleremo, diremo tutto quello che dobbiamo dire, ma sono curioso di sapere, se saremmo tutti presenti come l'altra volta, bene, e con questo, cari amici, mangiate, mangiate più contenti oggi, miei giovani, anziani, vecchi, tutti quelli che amate la Gelbison come me, guardate, io, i miei figli già lo sanno, io ho già conservata, la maglietta della Juve, è la maglietta della Gelbison, che quando il buon Dio mi chiamerà, mi farà accompagnare nella mia cassa, quindi pensasse qualcuno, quando amiamo noi la Gelbison, ok, quindi, buon appetito, siamo un po' meglio, domani sera vedremo come andrà a finire, grazie a Carmela, grazie a Sette TV, il mio amico Giorgio, però posso interromperci, dobbiamo finire però con un momento, prima di salutare, salutiamo insieme, per condividere la gioia della Juve, della Gelbison, perché, mentre si discute sul futuro della società, ci sono i giovanissimi, che benciano, facciamo vedere queste immagini, e poi salutiamo insieme, allora, se Marco Maiese in regia ci propone queste immagini, un capitano, un capitano, che sono un capitano, e beh, era doveroso far vedere queste immagini, per far capire, quanto la Gelbison, è importante, insomma, per noi cilentani, per noi vallete, posso dire che io mi complimento, con un bravissimo allenatore vallese, che è Nello Ametrano, un vaccinente genderista, perché lui ha vinto questo torneo a Bellizia, è stato premiato anche l'altro giorno, insieme a me, lui per lo sport, io per il giornalismo, a Sapri, quindi pare evidente che, anche a Sapri, apprezzano il lavoro che viene fatto, da noi di Sette TV, come giornalisti, e da la Gelbison, con il settore giovanile, che ha vinto questo torneo, e Beccalossi, così chiamato a Metrano, che lo conoscono meglio, solo io so, i sacrifici che ha fatto quest'anno, per portare avanti la Juniors, cosa che, in questo documento, le persone ci tengono più al settore giovanile, che alla prima squadra, qui non verranno la gente, a svernare l'anno prossimo, se facciamo società, a svernare, nomi di grido, no, noi vogliamo far svernare, faccio un esempio, vi dico, Fabio Fariello, Vincenzo Ruocco, i cuori pulsanti della Gelbison, De Marco, La Manna, Graziani, Manzillo, tutti quelli che sono stati mandati via, quasi a calci nel sedere, noi ce li porteremo di nuovo qui, a costo anche, di retrocedere, tanto, non ce l'ha ordinato il medico, di fare per forza la Sette D, noi cerchiamo di salvarla, se non la facciamo, non fa niente, facciamo l'eccellenza, lavoriamo ancora di più sui giovani, però abbiamo un presidente, che è Carmelo Infante, che se li giudiciamo, lui continua, perché con la sua oculata politica, innanzitutto non farà debiti, ma se li farà, se li accorla ancora, e continua, e darà continuità, ecco perché ho sposato il progetto, ecco perché, fino alle, alle otto di stamattina, siamo stati, dove siamo stati a parlare, per redarne questo verbale qui, è stata la mia, notte in zonne, più bella, che potevo passare, saluto tutti, e appuntamento a domani sera, per quest'altra riunione, augurandoci che si possa uscire qualcosa di buono, Carmela grazie, grazie, arrivederci, è sempre un piacere con te, grazie, arrivederci, patrimonio dell'UNESCO, ci fermiamo qui, Marco grazie, arrivederci, grazie,